Ciao a tutti! Il mio nome è Saga e sono lo specialista di prodotto qui in LG. In questi video tratteremo gli argomenti principali alle vostre domande più frequenti. Oggi vedremo come usare Game Optimizer e come personalizzare il colore. L'ottimizzatore di gioco ti consente di migliorare le tue caratteristiche e le tue funzionalità per i giochi preferiti. Visualizzato in un menu che non interferisce mentre giochi, in modo da non perdere mai la concentrazione, ti consente di rimanere completamente immerso nel gioco. Puoi andare ancora oltre e personalizzare il colore, in modo che si adatti alla tua configurazione o al tuo gioco preferito. Ci sono un totale di tre diversi colori che puoi scegliere tra arancione, verde e viola. La tua TV riconosce che sei connesso a una console e attiva automaticamente la modalità di ottimizzazione del gioco. In caso contrario, selezionala nelle impostazioni, dal menu delle preimpostazioni delle immagini. Per accedere prendi il telecomando e premi il pulsante delle impostazioni. Qui vedrai una dashboard, che è un piccolo menu dove puoi controllare le impostazioni, senza interrompere il gioco. Seleziona l'opzione del colore nel menu di ottimizzazione del gioco. Scegli tra arancione, verde o viola. Ecco fatto! Sono passaggi facili e veloci per migliorare il tuo gioco. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione!